Bella ragazzi, allora video, questo qui, piccolissimo, dopo la Moneylooby Scusate se ho stegusato addosso, ma è la tapparella Ok, se mi metto così ce l'ho in faccia, idem da questa parte, quindi devo stare proprio in mezzo Sentirete bassa la mia voce perché non verrà editato questo video, lo caricherò a lampo su YouTube Allora, Moneylooby finita, la prima parte, ne faremo un'altra Cioè, però, però, solo per chi non ha partecipato oggi, che stava nella lista Oggi, ragazzi, hanno partecipato praticamente 45 persone su 60, ragazzi, diciamo così È stata veramente bella perché è stata organizzata bene, l'abbiamo organizzata bene È ordinatissima, non c'è stato casino, Banana è stato severo per chi sgarrava Infatti ha buttato fuori delle persone che non se ne andavano Settimana prossima ne facciamo un'altra, piccolina, ragazzi, sempre allo stesso orario Il giorno ve lo dico lunedì nel vlog, ragazzi, perché adesso mi devo organizzare un attimo con Banana E parteciperanno, porca miseria, solamente le persone che non sono potute entrare oggi, che non ho invitato io Però che stanno nella lista Quindi sotto qui in descrizione vi metto la lista e voi mi commentate sotto Col vostro nome ID e scrivere io non c'ero Chiaramente dovete stare nella lista Solamente le persone che è della lista, ragazzi, che non sono state invitate oggi Così le invito la prossima volta e facciamo una cosa bella, rapida, rapida Quindi ragazzi, da questo video è davvero tutto Ringrazio Banana per tutto il suo aiuto di oggi Ringrazio anche Cattivic che mi ha aiutato a gestire E Ale Spesca, il vice capo, ragazzi Quindi, ragazzi, da questo video è tutto Ci vediamo al prossimo video Non taglierò quindi sentirei i miei errori Bella